Abbiamo preso questo film per sapere qualcosa di più da persone che hanno vissuto questa esperienza e soprattutto per non sentire solamente una campana, per non sentire solamente quello che ci stanno passando ultimamente per le varie televisioni, per i media e anche ad alto livello politico, per cui speriamo di vederlo, speriamo di vederlo in famiglia e di farlo conoscere un buon giro. Agli amici!